La mia amministrazione ha fatto enormi investimenti. Il semafono! Non c'è solo la febbra! Ma se c'è l'oretta! Noi abbiamo deciso, ce ne andiamo a Campobasso. Wi-Fi? Sta per tutto? Cinque tac su telefonina! Bombezza! Questo cadavere è un dono del signore. Se facciamo finta che in omicidia, Ascitrulla è diventata famosa. Cogne, Avetrana, Novi Ligure. Che c'hanno più di noi? A voi chi ha dato l'autorizzazione di stare qui? Siamo della truppa di Filacceso. Sono il commissario Fiuttozzi. A che punto sono le indagini, eh? Ma non lo so, ancora presto per dirlo. Noi dobbiamo fare ancora la diretta, costruire il plastico. Cosa avete trovato? Le nostre salite! Le nostre discese! Guardate qui. Una settimana da Citrullo. Hanno appena ammazzato una contessa. Ghi-le è troppo beee! Cosa prova in questo momento? Apriamo il telefono. Il sospettato numero uno è... Dovremmo fare le indagini! Non so state, non so fate niente! Isolamenta? Fermo! E' tu il braccio. Il braccio a coltella. Come faccio a coltellare con la mente, scusa? Lo vedi? Sì! Lo vedi? No! Grazie.